Amici di YouTube, ben trovati da Marco Liguori. In questo video parliamo di un tremendo dramma, di una triste storia che ha come protagonista una ragazza di 15 anni e, prima di sapere di più, vi ricordo che a 400 mi piace pubblicherò immediatamente un nuovo video. Oggi raccontiamo la storia della studentessa inglese Eve Lewis di appena 15 anni. La ragazza sognava di fare l'avvocato, ma sfortunatamente, a causa di disturbi alimentari e dell'anoressia, aveva avuto un periodo molto delicato durante i lockdown. La ragazza si era allontanata dalla sua abitazione, aveva tenuto con il fiato sospeso l'intero Regno Unito e, fino ad arrivare alla fatidica data 26 settembre 2021, il giorno in cui Eve ha deciso di interrompere la sua esistenza, compiendo l'estremo gesto, ricordiamo, la giovane ragazza inglese Eve Lewis, mancata, ha a soli 15 anni una triste storia di qualche anno fa e amici di YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate il vostro commento, iscrivetevi al canale, condividete questo video, ciao!